Ciao ragazze, eccoci qua al nuovo video! Siamo andati al supercato, siamo andati a Lidl Lidl, Lidl Ci piace tantissimo perché risparmiamo tanto E adesso dobbiamo andare in palestra Quindi facciamo questo video a volo E con tutte le cose che abbiamo comprato Come sapete noi vi facciamo vedere una spesa Beauty Light Fit C'è una spesa per stare in forma Anche adesso è il periodo dell'anno dell'estate Uno ci tiene ancora di più a stare in forma A mangiare sano ma non dimentichiamo Che è una cosa che va fatta sempre Tutto l'anno E poi avete visto anche il blog al supermercato Lidl Dove la mamma e già sapete tutto L'abbiamo fatto nel blog, abbiamo fatto vedere proprio in diretta La nostra spesa, ci piace tantissimo Anche a voi piacciono tantissimo questi video Perché vedete anche magari le cose che non vanno bene Che non hanno buoni ingredienti Quindi andate a vedere anche quel video Insomma vi lascio il link riccabile per scoprire le cose che non vanno bene Perché non è tutto buono Non è tutto oro Quel che è luggica Non è tutto oro Quel che è luggica 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 Comunque ragazzi iniziamo subito con questi cibi Buoni buoni, buoni, sani, sani e belli belli E lasciateci tanti pollici in su Per Che lo dice meglio Io Non è Sì 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 Io ci sono alcune cose bio All'idol Quindi siamo contenti di questa cosa Che poi Più facciamo questi video E più Non ci riesco a fare Che facciamo questi video E più Loro Inseriscono nuovi prodotti bio e sani Quindi sta cosa ci fa tanto piacere Perché si diffondono Tutti questi prodotti Poi quando vado all'idol Incontro sempre un sacco di voi Che andate là Ho visto il tuo video Sono venuto a fare la spesa copana Le stesse cose che ho fatto tu Quindi vuol dire che veramente Stavo facendo una cosa buona Stavo diffondendo proprio Il sano e il bio A 360 gradi Faffalle Bellissime Queste farfalle Sono proprio questo pack È nuovo di questa Sì sì È la prima volta che l'abbiamo vinta Sono integrali Quindi sono ottime E sane Basso l'indice glicemico Non gonfiano la pancia Pancia piatta E bla 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 E sono molto buone Alcune paste sanno di cartone Quelle integrali Questa no È veramente buona Nel senso sparisce No volevo prendere anche gli spaghetti Dello stesso macchio Sempre Però questi non sono integrali Sono bio ma non sono integrali Sono di farina bianca normale E noi le alterniamo Perché come sapete Anche troppe fibre Comunque non vanno bene Quindi mangiamo sia un po' Quelle bianche Che integrali Liso Anche al fice reale Liso Tutto Bisogna variare Poi ho trovato Il mio tè preferito Che è quello l'aromatizzato Alla vaniglia Che è un profumo celestiale È buonissima È troppo buono È buonissima A me piace tanto Perché ragazzi Ve lo consiglio Se il tè verde Magari non tanto vi piace Provate questo È buono E non c'è bisogno di dolcificarlo È stradolice È buonissimo Cioè si sente solo il sapore della vaniglia Sì oggi è troppo buono È troppo buono Poi abbiamo preso anche il tè verde naturale È naturale pure buono A me piace Super concentrato Il sapore è delicato Guarda qua Ti sto prendendo tutti i temi Ho comprato Magari mentre è una vaniglia La natura di vaniglia pure questo Sì perché se è impregnato Ho preso un sacco di smoothie Vedici se non sono altri Ma penso di averli presi tutti Perché ne ho comprate tantissimi ragazzi Perché li adoro E anche sì Banane, lampone Chi c'era con te Chi c'era stasera Io sono il tuo amore Se solo per me Banane e banana Mela e lampone Mela, banana e mango Fragole e banana Ci manca Banana e cocco Che anche è buonissimo È tutto bianco Non c'era perché il gusto più buono Ed è finito A cocco buonissimo Questi piacciono tantissimo anche a Max Sono praticamente molto molto sani Io dico sempre Un'alternativa sana Al frutto di frutta Perché questi non hanno zucchero aggiunto È solo polpa di frutta E anche nell'ultimo video Che vi feci di Lidl Ve li feci vedere Non mi ricordo quali gusti E vi dissi sta cosa Che ovviamente è meglio mangiare la frutta Però ovvio Se uno va di fretta Ti devi portare una cosa Invece di bere una bibita gasata Con tutti quegli zuccheri Ma anche il frutto di frutta semplice Non va bene Invece questo è comunque frutta È tutta frutta naturis Si chiama Ed è infatti Ha pochissime calorie Ha pochissimi Cioè ha solo gli zuccheri della frutta E poi sono molto buoni Perché sono così densi E non essendoci appunto zuccheri Vanno scegherate Vanno scegherate Perché tu ti diverti Ha un sapore molto intenso di frutta Mi piacciono tantissimo Veramente anche questo col mango È molto intenso perché c'è solo la frutta Non c'è l'acqua A te quale piace? A me piace quello col mango A me piace mele e lampone Perché il lampone è un pasco È buono Comunque provatele Ragazzi ve li portate dietro Adesso che è stato Qualcosa di fresco Sono in palestra Sono buone È in palestra ragazzi Non ce l'ho da un consiglio Sì sì Ah poi abbiamo preso anche questa Questa è una tisana nuova Un alimenti Sempre dello stesso marchio È praticamente Un'infusione solo di frutta Infatti c'è il disco Rosa canina Arancia Quindi comunque è un effetto energizzante Tipo come il tè Perché comunque c'è il disco Sì energizzante però è comunque sgonfiante Poi abbiamo preso anche questi qua La nostra frutta secca E guarda caso stranamente Lenzi non ha preso le anacardi Perché già c'erano tre pacchi a casa A casa Già c'erano le acule Già c'erano la riserva E abbiamo apriato la frutta mista E le nocce Questo frutta mista mi piace Ci sono le anacardi Poi ci sono pure le noci Le nocciole Questo è molto buono Secondo me da mettere anche nelle insalate Tipo voi ragazzi Fate un'insalatona Tipo così Triste Poi ci mettete questo Diventa sorridente E sono grassi buoni I grassi buoni Fanno tanto bene Sia per la salute Sia per il corpo Tipo post allenamento Vanno a ingrandire muscoli Però non mangiate solo la frutta secca Mi raccomando Non tutta la busta Come fannenti Sì sì Ecco qua Poi appunto sempre questa secca Poi ho anche le mandole Le mandole queste qua Mi faccio da tantissimo Le mandole Non avevano quelle a scagliette Che io prendo sempre Ho preso queste qua E i pinoli Anche i pinoli sono molto molto buoni Ci faccio anche il pesto È buonissimo Sulla pasta Poi abbiamo preso il latte di soia Questo va bene Perché non contiene olio conservato Invece c'è quello vaniglia e cacao Che non vanno bene Esatto Non vanno bene Infatti io vendiamo sempre quello Poi la pasta C'è questa pasta Di taliamo Che è molto molto buona Perché anche di sapore Noi la compriamo spesso E costa poco Pochissimo Pochissimo Infatti tortiglioni Pasta di granano Ma voi volete sapere i prezzi? Non ve li dico Tanto di sbaglio Guarda te lo scontri No è questo Guarda è questo Lo scontri Eh sì sì è enorme Comunque pasta trafilata al bronzo Sono rigatoni Sono molto molto al dente E sono buonissimi Questi qua Sono bianchi No integrali E la pomarola bio Ecco ad esempio La pomarola bio Quanto costa? Questa è buona Perché colpa di pomodoro In barattolo 98 centesimi Costa poco ragazzi No però due pezzi A pezzo 49 centesimi Veramente Sì pochissimo Cioè 49 centesimi ognuno Me ne vediamo 10 Invece di due Perché è buona Perché chiaramente Quando è bio Tu al suo mercato La vavi molto di più Invece questa qua Costa poco E poi buonissima Sono tutti pezzettoni Comodori Il caffè Questo caffè Che non ho mai preso Però è solo contenitore nero Ma proprio Diciamo che tu l'hai preso Solo per il contenitore Sì è bello Ma è molto elegante Si chiama caffè pellini Specie di caffè arabica 100% selezione top Wow Top Dei top Questo però si fa nella mocca Non è solubile Quindi bisogna Sperare nella mocca Poi ho preso Il mio amato riso basmati Che tante di voi Mi vedete spesso mangiare Sia nei video vlog Che nei video di ricette Su questo canale E mi piace tanto Il riso basmati È molto consigliato Per gli sportivi Perché praticamente Un riso che Ovviamente non contiene glutine Sapete il riso Quindi già per questo Mantiene la pancia piatta E poi serve molto Per andare a rinfocillare A ricostituire i muscoli Dopo l'allenamento È veramente ottimo Il riso da mangiare Post allenamento E contiene Praticamente zero grassi Quindi è veramente ottimo Ottimo direi E poi piace tanto Questo è tante Il riso che si usa Nei ristoranti orientali Giapponesi Giapponesi Col salmone A noi piace un sacco Col salmone Abbiamo fatto pure il video Ma poi Nei vari risi Giapponesi Orientali Abbiamo preso queste Le bacche di goji Queste sono bio Sì sono bio E non costano Queste mi doono Intorno ai 4 euro Sì non costano E non costano tanto Perché voi Se sapete Le bacche di goji Quando soprattutto Quando sono bio Costano veramente Tanto Tanto Perché sono Un super food Praticamente È un cibo Che fa moltissimo bene Contiene tanta vitamina Veramente ottimo Appunto Per Anche dicono Anche per mantenere Il peso costante Il peso corporeo Veramente È una bomba Di ingredienti Che sono ottimi Per la salute E per la bellezza Un belestra Comunque Io ho fatto Tante tante ricette Anche di bellezza Con le bacche di goji Quindi andate a vedere il video Oggi devo shakerare Oggi devi shakerare tutto Abbiamo finito? Abbiamo finito E quindi questo è tutto Ragazzi Ne speriamo tanto Che questo video Vi sia piaciuto Che fateci sapere Voi nei commenti Voi che cosa comprate Da Lidl Quali sono le vostre cose E diteci anche Quali altri supermercati Vorreste che noi andassimo Sì Vi portiamo con noi Magari facciamo anche Una selezione di prodotti Quelli che vanno bene Quelli che vanno male Facciamo anche un nuovo prodotto Da supermercato Diteci voi Ne siamo pronte Per andare in missione Per voi E ora è palestra Ciao E ora è palestra Vi mandiamo un bacio grande Ciao 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 Grazie a tutti.